Nicola Baiocchi, siamo all'indomani del Consiglio Comunale monotematico sulla sanità a Pesaro, sul futuro anche del nuovo ospedale. Alla presenza del Presidente della Regione Marche Acquaroli, che cosa ha significato a bocce ferme questo step? Ha un grosso significato, è sicuramente un segno di attenzione da parte del Presidente della Regione, che a differenza di quello che sostengono i tanti è assolutamente vicino alla città di Pesaro, tanto che, come ha ripetuto lui, ma anche numerosi interventi, la Regione Marche ha effettuato il primo intervento più importante e sostanzioso di questa legislatura nella città di Pesaro, con il nuovo ospedale a fronte di un investimento di 150 milioni di euro. Quindi è un'operazione importantissima, ha cercato di evidenziare la grandezza di questo progetto, a dispetto di tantissime promesse che sono avvenute negli anni che ci hanno preceduto. Ora si attendono un po' quei passi che portino a una concretezza più pressante, dai tempi ai contenuti più specifici. Capisco anche l'attenzione da parte del Sindaco e della maggioranza di avere tempi veloci, certi, e di un cronoprogramma. Ci sarà la massima attenzione da parte anche dei consiglieri di maggioranza rispetto a questa richiesta, perché è nell'interesse di tutti di avere quanto prima un ospedale nuovo, efficiente, che deve cercare di andare a colmare tutto quello che non c'è stato prima, in riferimento all'unità passiva, cercare di attirare delle eccellenze per il nostro territorio e di riavere un ospedale all'altezza della nostra città. In questi ultimi giorni ha fatto discutere anche il tema della discontinuità sulla gestione di Marche Nord. È un tema molto delicato. Io penso che i consiglieri, sia di maggioranza che di minoranza, hanno chiesto una discontinuità. Adesso la regione dovrà fare le sue valutazioni sul futuro di Marche Nord, ma non solo di Marche Nord, perché la discontinuità non è legata solamente al Marche Nord, ma anche tutto il territorio che riveste la nostra provincia di Pesurbino e anche altre aree vaste della regione Marche, quindi non posso che allinearmi a questa proposta. Adesso vediamo un attimino di giungere a una soluzione quanto prima, per cercare di tornare ai fasti che questo ospedale aveva nel passato. Andrea Biancani, ieri ha partecipato al Consiglio Comunale monotematico sulla sanità. Molto atteso questo appuntamento con il governatore Francesco Acquaroli. Le chiedo se dal suo punto di vista ha soddisfatto quelli che erano i tanti interrogativi o è stato un passaggio più che altro interlocutore? Dal mio punto di vista non c'è stato niente di nuovo, perché il fatto che l'ospedale andava fatto, che si faceva a Pesero e che la sede individuata era quella di Muraglia, erano notizie che già sapevamo. Mi sarei aspettato dei tempi, cioè capire quelli che saranno i tempi sia per fare il progetto, ma soprattutto i tempi per iniziare i lavori. Ormai è passato un anno e mezzo, si è solamente distrutto quello che era il progetto che avevamo praticamente pronto per iniziare i lavori. Un anno e mezzo dove ancora ad oggi non si è capito chi farà il progetto e quali saranno i tempi sia del progetto sia di iniziare i lavori. Dall'altra parte il Presidente ha parlato di razionalizzazione sia di Pesero che di Fano, perché ha detto che ci saranno due strutture, una di primo livello a Pesero e una di primo livello a Fano. La volontà, quella che è stata espressa in maniera chiara, è che non ci deve essere una duplicazione di molti reparti e ieri non è stato definito, non è stato detto, quelli che saranno i reparti che saranno mantenuti a Pesero e quelli che saranno mantenuti a Fano. Faccio ricordo solo che a Pesero ormai da oltre un anno manca il reparto di pediatria, è stato promesso che verrà ripristinato entro il mese di ottobre, ma comunque questa cosa si ripercuoterà anche per il futuro, cioè le pediatrie rimarranno due o alla fine sarà solamente una, sarà Pesero o sarà Fano. La psichiatria, da quello che sembra, sembra che sarà la psichiatria di Pesero chiudeva solamente a Fano, quindi c'è un tema molto caldo di capire quelli che saranno i reparti che verranno mantenuti a Pesero perché dentro il nuovo ospedale è vero fare una nuova struttura, ma vogliamo capire bene quelli che saranno i servizi che verranno garantiti ai nostri cittadini.